Allora dovrei scusarmi per il ritardo dell'apertura delle buste, cioè ho continuato a cercare il notaio che mi diceva a fare testimonianza di quello che avevo scritto dentro chi, però uno mi ha detto io tengo famiglia, quell'altro mi ha detto migoi putelotti piccoli, quell'altro mi ha detto devo alzare il cuore della casa, non so se è buono di trovare nessuno, ho parlato con il carletto e il vigno, ho detto ma il notaio Migerotti è morto da 80 anni, allora sai cosa ho fatto, ho tosci il telefono, ho telefonato qui nella vicina Repubblica del Vignole, ho telefonato, ho detto ciao Cornelio mi farete un piacere, ho ben difficoltà a passare il ponte, però a tutti ti fa un piacere, allora ho domandato al Cornelio della famosa Repubblica del Vignole se puoi farmi il notaio, vai Cornelio, vai chi va là perché sennò non sono più buono di cavarmela, ciao Cornelio, il notaio sostituisce il notaio Migerotti, ti dà la busta e dopo te la dà verso con calma, ecco che dopo almeno tranquillizzere tutta la popolazione dell'arco, tutto trombato, sigillato giustamente, ci ringrazio, allora intanto il notaio dà verso la busta vuoi fare la precisazione, tu quel che c'è dentro nella busta è quel che pensavo, secondo me il beta vinceva il printurno e allora dentro nella busta c'è soltanto i nomi di quei che secondo me noi venivamo eletti nella maggioranza, anche perché quei della minoranza porazente stare in consiglio comunale sei anni e sei contro sedese, chissà che do coglioni che che vai, allora però bisogna anche dare merito anche a loro perché bravissimo l'Andrea Ravani, l'ha fatto un risultato secondo me eccezionale, le sta il print di tutte le opposizioni, nelle 5 stelle bravissima la mia amica Gabriella Santuliana, anche ella veramente non avrei pensato a un risultato personale così, lei è d'ancornizzare, nella lista del fabbro ottimo risultato di Socugnà e Daniele Braus, chi che è però una roba devo fare, mi dispiace per Simone Migliavacca, Simone Migliavacca mi ha detto se vincere l'elezione non ti fai più il carneval, ecco mi dico spero che vincere l'elezione che almeno me la cavo nella rogna e invece sto qui resta a casa e mi tocca andare avanti ancora, ecco per quel che riguarda la Lega, guarda, è un velo pietoso, la semperdere perché col risultato che io faccio la semperdere è come sbarare sulla Croce Rossa. Allora signor Notaio, ha il mal d'averto? Guarda la busta, a parte che dico subito, 200 euro per avere la busta. No ma chi interviene è il Fabietto, eh? Ah, il Fabietto. Le spese sono tutte coperte, chi si è in Telegar da Trentino non si è mica Televignole e dove che dopo magari lascia in giro qualcosa da pagare, il Fabietto ha il suo fondo la cassa e l'ulpa, guarda, è nata anche una bottiglia di terroio. Comunque è tale, 200 euro. Perfetto, vabbè, fattura però, non è che ti mi mandi la bambola con i spiloni, non è che ti mi mandi la bambola con i spiloni come fattura, fattura regolare. 200 euro. Perfetto, va bene. Allora, chi lezzo beta farà il 65%. Beh, non ho sbagliato tanto però, no? Che sono da lì vicino, quant'era? 69. Sono da lì vicino, va bene. Mi sono manca scritto il migodino perché sai, è complessa la storia. Non voglio sbagliarmi. Va avanti, va avanti. La sorpresa sarà il Ravagni. Ecco, bravo. Ravagni e l'Andrea Ravagni che sta il primo dell'opposizione, non chiedeva un centesimo nessuno, invece non cavo il cappello perché altrimenti mi vedi che sono pelato al di sora e chi mi dispiacerà. Però bravo l'Andrea Ravagni. Che lei sarebbe dei nostri, eh? Sì, sarebbe dei nostri. Sì, al di là del punto. Esatto, esatto. Primo trombato in assoluto il Mario Matteotti. Ehi là! Il Mattei non lo voleva a Lanza perché Massa spaccaballe trombato di sicuro per Lanza. Mi fa una roba dura sta qui, eh? Eh, ma chi, chi, chi... Non so che dire. Però secondo me sarà contento il Mars Floriani. Perché su Facebook c'è tutte quelle robette. Sì, sì. Sì, sì. E scriveva che dopo l'elezione sarebbe stato contento se il vicepresidente dell'Amsa, che sarebbe quello che organizza il Carnevale, non venirebbe più eletto. Ho capito. Ecco. Allora, mi ho parlato a questo signor qui, no? E mi dice, guarda che io non vuoi più centraria. Mi tiro fuori. Allora, ora che vai a cercare tutte queste robette qui? Ora mi domando, ma secondo me ha più problemi? Quell'uno che aveva il vicepresidente dell'Amsa che era anche con il Carnevale o il Mars Floriani che adesso non lo vuole più nessuno? Eh, questo è un dubbio atroce, eh? Vediti. Notaio, vediti. È un dubbio atroce. Vediti, andiamo avanti, andiamo avanti. Lista civica beta. Nessuno dei candidati facenti parte della lista del Bresciani Roberto verrà eletto Soprano, Remondini, Tabiglio, Dirisio, Grossetti e Zangari. Sì, chi non lascia via uno perché pensavo che fossero sei e invece erano sette. Ma l'avremmo indovinata o...? Ma non dovinate, sai che la lista beta l'era division 3. Una l'era quella che fea capo a Roberto Bresciani, una l'era quella all'Antonio Remondini e una l'era quella che l'era all'ex matei. Ecco, allora di questi non sta eletto nessuno e lo scrive perché secondo me l'era un po' un'armata brancaleone senza torga e niente a Vittorio Garzmann che l'ha fatto in film, che l'està eccezionale. mi dispiace solo per la Patrizia Soprano la Barbie de Charam non so se la conosci quella bionda de Charam ecco, la che l'ha messa tutta ma non la fa non ve lo fa niente mica l'avevo detto che non ha bisogno che la che creda a quelli che dicono che fanno il pongo agli asini che volano la volessi crederghe e poi la resta a casa questo però è una delle robe solo per ella, che mi dispiace va avanti che vedete guardate che comunque la busta era sigillata cioè queste sono veramente delle previsioni fatte prima delle elezioni cosa vuoi? il notario non sa che mi guanno così mago, no? è qualcosa comunque il notario certifica che queste sono veramente previsioni fatte prima delle elezioni non dopo la serata col timbro il sigillo timbrato allora, lista del PD Cagliari, Amistadi Tavernini beh, qui io ho messo questi nomi qua perché siccome i consiglieri comunali da 30 diventavano 22 qualche d'un doveva restare fuori allora ho pensato che forse potevo mettere anche qualche d'un altro però mi ho pensato a questa roba qui ecco l'unica roba che ho sbagliato e ho canato completamente è la Maria Luisa Maria Luisa Tavernini anche a me non pensavo che la riuscisse a superare quei 3-4 consiglieri comunali ausenti allora gli dico complimenti a ella che le sta nominata e che mi scusa non ti ha un pelle di ruffiamo il fuori anche a me anche perché continuo a leggere sul giornale che la diventerà assessore non si sa mai tengo famiglia anche a me mettendo le mamme avanti lui cosa ne pensa della roba per la verità lei ha scritto qua Tavernini e basta quindi è a posto va a posto secondo me però brava brava perché le sta eletta brava alla prima volta la fa quasi come il Mario Matteo stia comunque Tavernini generico benissimo benissimo allora lista Upt Comperini la donna più votata in assoluto anche a questo era una roba facile perché la Comperini da quel che mi risulta l'era fortemente sostenuta dal Max Amistadi quindi contando tutte le famiglie degli Amistadi era anche facile che la Guinness fora BAM insomma questo l'era giugare in casa Dino Campo supererà il fratello Paolo anche questo era facile perché il mio amico Dino la partecipò come comparsa all'Arcorrida insieme a quel signor Davignole e Cornelio Gallas quindi lì la guadagna e molto dei ponti insomma quindi l'era l'era è una previsione abbastanza facile ho capito e passiamo alla lista P-A-T-T allora lo turco Maurizio beh questo lo trova lì dal Piero Zocco in piazza anche in maniera gelata no? e mi fa vedere l'aspettativa dal lavoro e mi ha detto guarda il signor e mi ha detto che mi ha però 500 voti e farò il vice sindaco mi sono resta se dire basito una roba del genere allora mi godi ma scura non è meglio che ti continui col pulmo ma portare le fiori a mezzo goire che sei bravo a fare questo lascia stare il vice sindaco che sarà qualche d'un altro che pensa il risultato non l'abbiamo cana Briosi Giorgio sai lui che è questo? ma da l'uffano questo chi è quel signor che continua a dire voglio il tunnel lungo il tunnel corto una cana due cani tre cani quattro cani cinque cani dritti stort svergo che passa via nack che ciappa dentro le busate che venga fuori dal di sotto cioè lui è contrario a tutto però visto i voti che la ciappa secondo me è meglio che si metta lì la sera quando chi fa Buster Chef e si mette la cortina su di noci guarda la television e lascia perdere tutte queste robe qua che saranno anche ora però è un tipo un po' brioso insomma briosi briosi sarà briosi forse forse è il bene che zopper e lo fanno però ho domandato anche uno ma sto qui che è l'ingegnere non lo dice è un che mette so è il mette so brocco dell'uffano continua a mettere i brocco che magari qualcosa ne porta anche a me a te che pensi tra notario ma secondo mi si allora finiamo con la lista bene comune con Zampicoli Ricchi con Radini Roberta e Struffi Lauro ma subito dopo le lezioni provinciali avevo scritto su qui che network come se social su tutte quelle robe lì ma il bettel dovrebbe avere un pelle coraggio e dire guarda tutti qui che c'ha l'1,2 1,01 la sei fuori tanto che lei non capisce la politica questo è il consenso elettorale allora in campagna elettorale e chi non capisce proprio niente perché questi qua in campagna elettorale fanno una guerra contro il PAT che dove è se stai insieme noi siamo in consiglio comunale per controllare il PAT Allora l'altro l'altro l'ho letto anche un articolo del Barbali che non conosco vedo sul giornale se firma dove la lì deve essere dei verdi che ringrazia il suo elettorato la ciappa 7 voti 7 l'altro che questo è una roba mia personale sono contento che Enrico Zampicoli resta fuori così basta verdi dentro che va in consiglio comunale a non dire niente la Corradini invece lei la presidente dell'Arci lei è un politico emergente dese voti un altro che voi domandare insomma mi pare che questi i poti avere un po' di difficoltà e io mi dico ho dentro quel che struffi lei è un professor dell'università del tren sa quanti voti che la ciappa 2 allora poteva stare sì forse forse ecco lascia qua due voti allora allora visto che avete finito con me a fare sì allora mi auguro mi auguro che non che non veniva di quello che abbiamo fatto perché sia me che il mio amico Cornelio Cornelio ti ringrazio di aver messo il culo nelle peane insieme a me e che mi auguro che capigli che mi è luce che scherziamo insomma e che non fai come quel che scrive l'altro dì che mi ha detto ti devi tagliare se no io ce lo ricorderò allora non dico un'amicizia ma proprio un'amicizia ma attento quella è l'azienda Arco che si ricorda di quello che ti ha fatto lascia perdere Cornelio e allora da telegarda Trentino da me e il mio amico Cornelio baci e abbracci anzi una roba volevo aggiungere qui c'è zero voti saltiamo via tu per piacere se no diventa massa lunga ma non c'è zero voti c'è delle vignole al del pon lascia perdere pensa a quel che fa cos'è non il bordellino rio salone pensa lì salute Cornelio alla vostra e alla prossima e quando passiamo per arco non stai sbarando di dio lascia perdere tanto non ve la caverai mai salute